E' stata un'esperienza abbastanza inattesa, non sapevo a cosa andavo incontro, ho provato a fare una riflessione che aveva a che fare anche con il luogo nel quale ci troviamo, ho provato a ragionare con i ragazzi sul rapporto fra l'arte contemporanea e l'archeologia, abbiamo scelto tra i vari casi anche la Valle dei Templi di Agrigento, ma la modalità di lavoro mi sembra che sia stata particolarmente stimolante perché da un lato c'è stata una parte più tradizionale di riflessione, dall'altro lato invece i ragazzi sono stati invitati a elaborare loro stessi delle proposte di presenza contemporanea all'interno di un sito archeologico come quello della Valle dei Templi. Quindi la modalità mi è sembrata vivace, stimolante per i ragazzi, lo spero per me sicuramente. L'aspetto che mi ha colpito è l'attenzione dei ragazzi, era un'esperienza non sempre frequente, non si coglie spesso questo tipo di vivacità, questo tipo di attenzione, l'ho colta da parte dei ragazzi e mi ha fatto molto piacere coglierla e spero che sia soltanto il primo incontro di altri. La tesi che ho provato a sostenere è che nel caso di Mitorai si è trattato di un'esperienza di uno scultore in cui opere sono state collocate come se fossero stati degli oggetti di design all'interno di un sito straordinario come la Valle dei Templi. È auspicabile a parer mio che invece gli interventi di arte contemporanea in un sito archeologico siano figli di una concertazione, di un dialogo, di un confronto fra l'artista, la storia del luogo, voi soprintendente, gli archeologi in modo da far sì che l'arte esca fuori dalla pura dimensione di oggetto d'arredo e diventi la figlia di un dialogo problematico, attivo e spesso stimolante con l'archeologia. La sfida è quella di rendere un po' diversa l'arte contemporanea quando incontra l'archeologia e di consentire che l'archeologia attraverso l'arte contemporanea sia a sua volta anche sempre diversa.